Vi proponiamo un quiz di inizio anno. Cosa sceglierà secondo voi un 45enne ammogliato e con due figli a carico tra non lavorare e lavorare a nero? Tra una legittima battaglia di principio in difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione e un impiego che seppur sottopagato ed umiliante garantisce comunque quel minimo di sopravvivenza a sé e alla propria famiglia? E' questa la tara culturale più difficile da scardinare nella battaglia che quotidianamente la CGL porta avanti in difesa del lavoro, vero e della legalità. Sono drammatici i dati censiti dal sindacato che stamattina ha portato in piazza a nocere inferiore il camper dei diritti. Nel settore agricolo turni di lavoro che arrivano anche a 12 ore pagati in totale 26 euro. In edilizia paghe di 30 euro giornaliere, il tutto condito dall'assoluta mancanza di qualsivoglia misura di sicurezza. E se, come nel caso di Fiat e Marchionne, viene poi posta una scelta che sa dedicato direttamente ai lavoratori, allora di certo i diritti passano in secondo piano. Una delle massime preoccupazioni che noi abbiamo del patto Marchionne è che si possa estendere dappertutto. E che si estende addirittura in zone come il sud o il nostro territorio in particolare, in cui dei diritti sono già vagabondi. Quindi se riesce a passare il patto Marchionne, noi avremo grandissime difficoltà. In un territorio in cui già far valere i diritti minimi e indispensabili a tutela dei lavoratori, significa che andremo a uno sfascio totale. Il problema è che diciamo che buona parte dei lavoratori è a conoscenza, anche se per sommi capi, dei diritti che gli spettano. Il discorso e la difficoltà è poi di farli effettivamente applicare. E questa è poi alla fine la battaglia che quotidianamente il sindacato porta in tutti i luoghi di lavoro, cioè rivendicare i diritti per tutti gli operai. Signore, signore.